La seconda ondata Covid investe anche il personale del Comune di Teramo. Dopo i due casi positivi registrati nella Polizia Municipale e uno nell'Ufficio Tecnico Comunale, adesso ad essere contagiati sono l'assessore al commercio Antonio Filipponi e un dipendente del suo ufficio. Tutti sono comunque in buona salute e il contagio sembra essere di origine familiare. Il sindaco d'Alberto ha tuttavia richiesto tamponi a tappeto per l'intera giunta comunale e per i dipendenti che sono stati in stretto contatto con Filipponi. A Teramo nelle ultime 24 ore si sono registrati 31 nuovi casi, a Giulianova 16, a Sant'Egidio la Vibrata 10, 8 a Isola del Gran Sasso, ma il numero che maggiormente spaventa sono i 104 nuovi positivi di Montorio, di cui 28 bambini. Per questo i posti letto Covid di Atria aumenteranno da 50 a 100 e anche l'ospedale di Giulianova si sta attrezzando per creare un reparto Covid. Nel pomeriggio di ieri sono stati eseguiti 500 tamponi in modalità drive-in nel piazzale di San Gabriele d'Isola, più della metà riservati a collaboratori ed insegnanti dei comuni di Castelcastagna, Isola, Castelli, Colledara e Tossicia. Anche l'andamento dei contagi ad Isola del Gran Sasso preoccupa e il comune è sotto osservazione. Gli ultimi 8 positivi infatti hanno portato il numero a 164 contagi, pari al 3% della popolazione residente che è di 4.600 persone. Il sindaco di Isola, Andrea Ianni, sta per emanare altre misure restrittive fino ad arrivare, se sarà necessario, ad una zona rossa. Intanto, con apposita ordinanza, il sindaco di Teramo d'Alberto ha disposto la chiusura dalle ore 18 alle 5 del giorno seguente di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per le cosiddette casette d'acqua. La decisione deriva dall'aver constatato che nei pressi dei locali adibiti in modo esclusivo alla vendita di prodotti alimentari per mezzo di apparecchi automatici è stato riscontrato il verificarsi di assembramenti. L'assenza fisica di un gestore favorirebbe il raggruppamento di persone, soprattutto di giovane età.